Ciao a tutti ragazzi qui ForteBer che parla e benvenuti in un nuovo video su Fortnite Ragazzi vi ricordo che se volete supportarmi potete andare all'interno dell'idem shop Nella sezione supporto a un creatore Inserire il codice creatore fortu così come vedete a schermo Poi accettare E da ora ogni acquisto che farete mi darà una piccola percentuale Grazie mille a tutti quelli che lo faranno Lo so, lo so, lo so, lo so Ma starei dicendo fortu ma hai detto che non avresti più giocato a Fortnite In realtà no, se sentite bene nel video in cui appunto parlo del perché Mi stia stufando Fortnite In realtà non dico che avrei smesso di giocarci Ma semplicemente che avrei fatto meno video Cosa che infatti sto facendo Fida di oggi, se tocco la sabbia il video finisce Era una challenge che volevo fare da tempo Secondo me risulterà molto carina anche per voi Vi ricordo solo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto Di attivare la campanellina Tra l'altro ragazzi stavo pensando di portare su Fortnite anche un video sul mio armadietto Quindi mi raccomando se questo video raggiungerà i 2000 like Io porterò il video del mio armadietto su Fortnite Ma direi di non perdere altro tempo E di mettere questo bellissimo paio di cuffie Che mi ha regalato Joseph Che finalmente sono riuscito a settare Dopo circa due mesi Perché era il regalo di Natale Lo sto mettendo ora che è quasi fine di febbraio Ok boys, Slurpee Swamp Per il nostro ritorno a Fortnite È una speranza di incontrare meno persone possibili Perché io non so più come si gioca Hanno rimesso la pistola dei pirati Siete seri? Oh, però posso fare questa cosa Divertente È un'arma molto inutile Come prima arma del game Però è molto divertente Sono... Mi fa piacere che l'avranno rimessa Ok, sta un tizio sotto Prima che spreco... Dove? 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 Ok, non ho capito Non è simpaticissimo questo tipo Però sono riuscito a eliminarlo Bella, fratmo Grazie, fratmo Allora, ora come ora La possibilità di trovarsi in mezzo alla sabbia All'improvviso È abbastanza remota Però questo non significa Che sia completamente assente Questo è un bot, eh Sì, a voglia Bella, fra Uh, uh Goll Specialmente quando la safe inizierà a chiudersi E già il fatto che si sia chiusa Metà sulla sabbia Non mi piace Sizio Oh, 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 oh Come se... Non ha senso 66 body shot Uh, testolina che sbuca? Ah, beh, bot Sì, però, ottimo Non capisco perché non c'è il bot Ok, change di fucile a pompa C'ho due minuti per farmi la taglia Quasi, quasi C'è finata? Non a me, però No, a me, a me, a me, a me Invece a me Credo sia proprio la taglia Lol Ok, la safe si è chiusa su lazy E un po' di sabbia Se sto attento Non dovrebbe essere un problema Bello, bello, bello Su 33 Il 31 Bellissimo Bellissimo, brother Ti curare, ti prego Non ti curare, ti prego Uh, bello Per esempio, qui è pericoloso Perché io non ho idea Di dove sia il tipo Ok, ho appena capito Dove è il tipo Sotto di me Bella, brother Eh, vediamo Dove è la prossima Safe A me qua Ah, ok A posto Eh, per esempio Qua vicino C'è già della sabbia, ragazzi Quindi attenti A dove mettiamo i piedi Ok, bella Venga questa è sabbia Mamma mia che panico Come pensavo Perché questo spiazzo Fosse sabbia Ok, la safe Ora si chiude Qua Va bene Andiamo Cominciamoci a mettere in posizione Perché dopo Se incontriamo nemici Non dobbiamo far decidere a loro Dove farci portare Eh, mi ha visto Ah no, ma è un bot Ok Ormai ragazzi Capisco al volo Quali sono i bot Lui letteralmente Era dietro l'albero Una persona normale Non avrebbe potuto vedermi Lui invece mi aveva visto Perché i bot Sanno in realtà Dove sei nel gioco Ok, la vedo Io non ci metto piede Sto attento Ok E tutta questa zona qui Va bene Vorrei mettermi l'inseip Ragazzi Sarebbe un'ottima zona 25 Ah no, quello è pericoloso però Non so quanto sia forte Io ho fatto anche fin Troppo poco danno Uh, carino 30 Ok Come non ha fatto A farmi headshot Ero letteralmente Fermo Questo è un altro Signori Signori di boni Signori Dove sei? Io non ti vedo neanche Vabbè È rimasto quello Scarso 3-2 Quindi è gg Ok, prossimo game Eeeh Ok, boys Uh, bussardiamo bene Con pompa Va bene Ok Vediamo se so ancora giocare Io sinceramente Non credo Più che altro Quello che noto A mio dispiacere Che in realtà Un quinto letteralmente Della mappa È totalmente composto Da sabbia E non è un'ottima notizia Dato che noi dovremmo evitarla Ma Credo che inevitabilmente Dovremmo passarci in mezzo E l'unico modo Per farlo È O passare sull'acqua Oppure Prendere un'auto Che cosa divertente Signori 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 Un tizio in testa Stavo sul telefono Ciao 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 Non c'è bisogno Ma stiamo calmi Ma cos'è tutta questa aggressività Però non c'è l'arma adatta Te ne sei accorto anche tu Semplicemente Non c'è l'arma adatta Lascia stare Mi spiace averlo eliminato così Pozze piccole Buono Non per forza di fronte Panico È un bot? No secondo me non è un bot No 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 Questo non è un bot Ok Mirava troppo bene per essere un bot Però era Un tizio che non era molto forte Simpatico Eh sì Fra ti pensi tu Io quando facevo queste strutture Tu stavi ancora giocando a minecraft No Not stonks Lol Ok Mamma mia come gioco male Credo che comunque il gioco mi abbia messo in una lobby un po' più scarsetta Perché non giocando da due settimane Lo fa di proposito Misorella È quello che mi ha sparato Secondo me no La vaga ha proprio l'impressione di no Eh no quello è un bot No no quello mo viene massacrato Sì E dove era l'altro? Ok Distruggi l'albero Distruggi l'albero GG mate Mi è andata bene? Non lo so Uh Non mi stava andando per niente È bene Mi prendo al volo Il lotto di questo Che ovviamente era nulla Fantastico Tizio là Che non mi ha visto Serato Che stava anche un altro tizio dietro di lui E lui si è preso l'high ground Ok Sta arrivando il tizio dietro di lui Vediamo se se ne accorge Attenzione Lo vediamo il tizio Che dici Spari me o lui? Ah Em Em Signori Collaborazionisti Signori Signori Is this collaborazionismo? Ok Fantastico Compagno non arriva? Arriva arriva Che bello Trovare collaborazionisti Dopo il mio primo game Ok Eliminato Andiamo Credo che facendo così Vado un po' più veloce Forse Giusto il minimo necessario Per allontanarmi un po' dalla safe Solo che a materiali Sto messo malissimo E la safe Ok Non è sulla sabbia Almeno questo Cos'è di utile? Mmm Fantastico Ok Io mangio a profusione Non so neanche se serva Potrei essermi Letteralmente scavato La fossa Belli questi Magna Papà Magna Magna E pure le splash Fantastico Cos'è? Vende? Va bene? Ok ok Ho dovuto lasciare la pistola Dalla pirata Però siamo salvi Mi sono appena accorto Di aver toccato la sabbia Mi sono appena accorto